Il Tar Puglia ha sospeso con propria ordinanza gli atti che autorizzavano l'ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Contrada Tufarelle e i relativi pareri positivi espressi dalla provincia Batte in sede di conferenza di servizi. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Minervino Murge, nel cui territorio al confine con Canusa verrebbe a ricadire il nuovo impianto. Il 7 febbraio è stata fissata la Camera di Consiglio che vedrà i giudici del Tar entrare nel merito della spinosa vicenda, esaminando in maniera congiunta le istanze presentate dai comuni di Minervino e Canusa, entrambi contrari alla realizzazione della discarica da parte della società Bleu. Si tratta del primo punto portato a segno dalle due comunità murgiane che da mesi hanno manifestato pubblicamente il loro dissenso all'allargamento dell'impianto in un territorio a vocazione turistica, già segnato in passato dall'attività di diverse discariche. Lo scorso mese era arrivata la doccia fredda del ricorso presentato dal comune di Canusa, giudicato inammissibile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora si riaccendono le speranze per gli abitanti dei due comuni murgiani che incrociano le dita in attesa del risponso definitivo del 7 febbraio prossimo.